E' carico il nuovo tecnico dell'FC Bari 1908, Davis Mangia. La ritirata, il nuovo format sportivo di Punto TV, che sta seguendo la preparazione dei Biancorossi, ha raccolto le prime dichiarazioni dell'ex allenatore dell'Under 21 dal ritiro in Veneto. Idee chiare per il mister, che ha con l'alzo di Cadore, sede provvisoria in attesa del trasferimento a Pieve di Cadore, ha parlato della voglia di migliorare il rendimento della passata stagione. Penso su 22 allenatori pochissimi avrebbero messo il Bari tra le semifinaliste per andare in Serie A, quest'anno invece secondo me il Bari è una delle squadre che tutti aspettano. Ma è un merito questo, quindi si parte da questo, quindi bisogna sentirsi orgogliosi di questa cosa qua, però bisogna capire anche che bisogna tirare una riga e bisogna ripartire di sicuro con lo stesso entusiasmo, ma con la voglia di fare ancora qualcosa di più. Io ragiono in questo modo, ci sarà un giorno, non so neanche qual è la data giusta, in cui finirà il mercato. Quel giorno io dirò che per me la squadra che ho in mano è la squadra migliore del mondo, però io parto già adesso così, quindi adesso io penso ad avere in mano i migliori giocatori possibili e con questi lavoro. Quindi per me in questo momento, sapete benissimo voi, c'è una lista di convocati, chi sono gli attaccanti, con quelli cominciamo a lavorare. Poi se ci saranno degli interventi, delle novità o delle situazioni, sapete come ho detto alla presentazione che questi aspetti vanno chiariti col direttore sportivo. Io mi occupo, e sono contento di farlo, del campo.